Si celebra oggi la giornata internazionale della donna per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche, ma anche le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono purtroppo ancora oggi oggetto in diverse parti del mondo. Tante le iniziative organizzate nel territorio del Vallo di Diano e degli Alburni. Roscinio oggi si veste di rosa e ricorda anche le donne vittime di violenza, depositando fiori presso la panchina rossa. Don Antonio Romaniello, parroco della comunità religiosa, ha parlato della donna nella Bibbia. A Sassano invece è stato organizzato un corteo celebrativo dal titolo Libera Cuore di Donna, per onorare la memoria di Libera, una delle 26 migranti che furono ritrovate senza vita a bordo della nave spagnola Cantabria a Salerno nel novembre 2017. Libera ha poi trovato degna sepoltura nel cimitero di Sassano dove stamattina si è svolta una cerimonia commemorativa con la deposizione di un mazzo di mimose. Il comune di Sant'Arsegno invece oggi celebrerà la festa della donna dalle 17 presso il teatro comunale Amabile con l'iniziativa Il diritto di contare. Dopo i saluti del sindaco Donato Pica, della consigliera con delega ai servizi sociali Rosanna Pistone e di Antonio Domenico Florio, direttore del consorzio sociale S10, sarà proiettato il film Il diritto di contare. Ne seguirà un dibattito moderato dalle operatrici del centro antiviolenza Aretusa, le dottoresse Elisabetta Giordano e Michela Lammardo. La festa della donna è una manifestazione nata negli Stati Uniti dove si celebra dal 1909, in alcuni paesi europei si festeggia dal 1911 e in Italia dal 1922. La storia è lunga e complessa e bisognerà aspettare la fine della Seconda Guerra Mondiale per vedere l'arrivo della festa accompagnata dalla mimosa così come la conosciamo oggi. Fu Ludi, l'Unione Donne in Italia, a prendere l'iniziativa di celebrare l'8 marzo del 1945 la prima giornata della donna nelle zone dell'Italia libera, mentre a Londra veniva approvata e inviata all'ONU una carta della donna contenente richiesta di parità di diritti e di lavoro. Con la fine della guerra, l'8 marzo 1946, fu celebrata in tutta Italia e vide la prima comparsa del suo simbolo, la mimosa.